Musica Bella ragazzoli con Shop48 e bentornati in questo nuovo video della Shopcraft Oggi ragazzi siamo ritornati su questa serie che vi sta piacendo molto E sto caricando meno video in questi giorni perchè ho problema di connessione Quindi non so come caricare i video E un'altra cosa c'è la skin di Steve perchè Mineshafter mi sta dando i problemi in modo assurdo E eccoci qui quindi qua ci sono i nostri lingotti del ferro E raga ora che c'ho sto problema mi dispiace molto ma quando aggiusterò caricherò più video Intanto si è fatta di notte E noi usciamo di notte LOL Andiamo in giro Quindi già stavo a vedere P ma sto giocando un modello male infatti ecco uno schede Molto sci-exi Che non mi spai Anfì non mi spaiava LOL Ah 2 che bello Morite male Oddio odio 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 od oddio ma ho fatto cagazzotto ecco marziamo su zombie ecco fatto, guarda, guarda vai, vai, vai oh otto colpi wow no, no, ho l'hai qui ho l'hai qui, ho l'hai qui dentro io può chiudere un attimo esecente ha un coglione da dietro c'è se in cula poco male perchè per la fame noi pensiamo a una fornace qui molto agavamente e ci prepariamo cibo per andare avanti quindi dai su un giorno per fare una cosa oh, intanto ammazzu quello perchè l'odio, proprio tutto il cuore di odio ho fatto vedere quanti maiali no, ma c'è una merda eh, vabbè, due contro uno madonna boni, boni, torniamo là torniamo là mamma mia, mi sono cagato sotto dove cazzo sta la fornace mia, mo? dove sta la fornace? madonna oh, oh, calmati non mi fa cagato sotto così dove cazzo sta la fornace? sunshine tu manco cioè ivi, tanto qui, coglione mamma mia un chieper da tenere a me stava in cula peggio di baibu no mi sono persa la fornace questo è il panico dove cazzo sta dove sta la mia fornace intanto c'ho due cuori in mezzo io ancora salto sull'albero faccio le tarzan ma che cazzo che è quella roba spera ragazzi devo cercare la fornace perchè mi sto in panica io ho un botto di cibo mi sto stavo a cascar giù ecco quindi ecco la fornace vaffanculo intanto c'ho un cuore in mezzo perchè io sono un coglione voglio saltare sull'albero no 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 io non scendo manco se mi paghi io scendo in realtà fa un ponte ve lo giuro eccola la fornace oh 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 scendiamo là sotto scendiamo là sotto proprio che ci sfondiamo qui le gambe per scendere qua sotto guardate il bel coso che abbiamo trovato eh però qui dove sta molto attento quello lo vendo no ecco facciamo una cosa del genere ho sentito uno zombie aspettate un attimo e faccio Le torce che sono vite Le torce Ecco Tenta torce Non possiamo scendere molto più tranquillamente Mentre qui c'è stato uno scheletro Che io vado a chellare subito Prima lo scheletro Non mi farei a chiusone Fii di puttana cagna No ma Ah Ah mi so pezzo Metti le torce Metti le torce ovunque Che è che è Madonna io quando sento di voi Umore così brutto Quindi Qui 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 Oh là ci sta una coppia di chi Cosa volete voi Da me Tagli un colpo Tagli un altro colpo Oh Ma io sento gli scheletri Tu muoi Quanto ce l'abbiamo Questo porta bene Questo porta bene Mori mori Morite male Morite male Metti una doccia sopra Metti una doccia Ho detto C'è una cesta qui intanto Due ceste Che cazzo Aspetta intanto se viene qualcuno Lo posso vedere Due dischi musicali gialli E io qua ho finito la roba Posavo un po' di roba Non ci posso dire Dov'è Questo Lo mi fa Lol Lol Ok Quindi Non c'è sta Chissà che ci stanno Quattro lingotti De feio E non tanto Oh dischi musicali Io le pello Quattro no Che cazzo sta La sella questa è molto importante La sella La piadaio se non so Perché l'ho presa Comunque Questo è bel posto Questo è bel posto Quello scambio Vediamo se c'è qualcosa intorno Se vuole fare tante fighetto Ma sa venire Eccolo Quanti give hai Dai tacci tuo Dio mamma Non potevi esplodere Non potevi esplodere Non potevi esplodere Senza permesso mio Magna intanto Vaffanculo Quindi qua Piazziamo i dolci Perché Dio No 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 Esplode Non esplode Ma tacci tua Ma se mi viene qualcuno Oh la madonna Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è Stade qua Invece Coglioni Qui possiamo Continuare Però al prossimo episodio Quindi ragazzi Spero che questo video Spero comunque il video Ti è piaciuto Se stavo così lasciare un bel like Un commento Iscrivervi al canale Ci vediamo in un prossimo video Ciao Poi non toto è tutto Bella Ciao Ciao